Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, parliamo di eccellenze nell'imprenditoria italiana, questa sera sono con la General Nord Ponteggi, un'azienda di Rivoli, provincia di Torino e sono con l'amministratore delegato Giada Manfredo, buonasera, e con il responsabile tecnico Antonio Manfreda, fatto che abbiate lo stesso cognome mi fa pensare che ci sia una parentela fra di voi, ma Giada com'è lavorare col papà? Litigate? Ma guardi, vi confrontate? Esatto, ci confrontiamo però posso dire che ci sono più pro che contro, questo lo devo dire. Io ho una figlia della stessa età di Giada per cui capisco perfettamente. Allora, normalmente noi cominciamo le nostre presentazioni, le nostre chiacchierate facendo un po' di storia dell'azienda, vogliamo fare un po' di storia? Certo, come no? Allora, mio padre dal 68 è venuto su a Torino, dal meridione, ha iniziato a lavorare nei ponteggi come operaio e poi negli anni si è aperta una partita IVA e faceva l'artigiano, faceva come si chiamava una volta il cottimista, praticamente gli portavano il ponteggio e lui guadagnava un tot al metro quadro. Io ho iniziato a lavorare anche io con lui, che ero molto giovane, 15-16 anni, mi sono appassionato di questo lavoro e negli anni gli dicevo sempre a mio papà compriamoci un po' di materiale anche noi, mettiamoci per conto nostro, ma lui un po' di questo non ne voleva sapere, diciamo, e diceva ma fallo tu, fallo tu che io ti seguo e fino a che l'ho fatto poi io. Ma come si fa un ponteggio? Lei dice compriamo il materiale, come si fa? Montare un ponteggio, secondo me, se ne parla poco di ponteggi in genere, ma per me, perché la vivo come una grande passione, costruire una cosa, un ponteggio di sana pianta, quando hai finito il lavoro e vedi quella struttura, l'hai montata a te, hai le stesse capacità di un ingegnere, di un architetto, senza aver studiato, certo, insicurezza al mille per mille, certo, certo. Interessante. Ma Giada, cosa fate nello specifico? Poi vi integrate voi due nelle risposte, perché di solito poi parla sempre la donna, però vediamo. Noi nello specifico ci occupiamo appunto del montaggio del ponteggio, abbiamo vari tipi di materiali, vari tipi di ponteggio. L'ultimo su cui abbiamo investito, data questa mole di lavoro portata dal bonus, è il multidirezionale, che è appunto il nostro ultimo investimento con cui realizziamo, diciamo, le facciate un po' più particolari. E per il resto abbiamo anche degli ascensori da cantiere, che le ditte utilizzano sia per il trasporto di persone, sia per il trasporto di materiale, in base comunque al lavoro che c'è da realizzare. Che vanno sui ponteggi. Sì, adesso è diventata un po' una comodità, nel senso quando trovi un ponteggio dai 12 ai 13 piani di ponte in su, c'è l'operaio invece che sta a salire, scendere, per andare a prendere qualche cosa, tirarlo con la corda e carucola, si carica l'ascensore, che sono a uso promiscuo, cose e persone. Ci sono gli ascensori fino anche a mille, mille e cinquecento chili, fino a arrivare anche di più, ma in genere si usa un mille chili in cantiere, caricano lì e si portano la roba, il materiale al piano. Poi Torino è una piazza dove il tubo è giunto la fa, la fa, la sempre fatta da padrona come materiale. Invece, come diceva mia figlia, con l'evento del bonus abbiamo investito, si parla anche di 3 milioni di euro, in multidirezionale. Questa è una nuova struttura dove non serve il morsetto e dove, diciamo, serve lo specializzato che lo monta, però l'aiutante non devono essere tutti specializzati in quanto il tubo è giunto è un'altra lavorazione, devi essere veramente bravo a montarlo, perché devi infilare il tubo, prendere le misure, metterli in bolla e quant'altro. Mentre in multidirezionale, quando te fai una partenza come si deve, puoi prendere anche un passante che passa sotto e dire, passami quei pezzi, perché sono evidenziati e non c'è più bisogno neanche del metro, li capisci? Non si usa più il morsetto, una volta che perdi tempo, tra virgolette, a fare una buona base, poi alla fine un martelletto serve. Ora detto così sembra una roba semplice, io l'ho semplificata, però è veramente, per le facciate devo dire la verità, è un po' sprecatino, è perché si presta per lavori un po' particolari, infatti stiamo prendendo con la multinazionale un indotto di iniziare a fare un po' i viadotti, i ponti che ci sono nelle autostrade, passanti ferroviari in Italia e anche c'è la possibilità anche in Europa. Infatti vedevo qui anche ponteggi per viadotti. Per viadotti, sì, c'è la possibilità con la multinazionale di entrare in un canale, di iniziare anche a trovare altre strade, oltre alle facciate, le ristrutturazioni. A volte io vedo dei ponteggi che sono bellissimi, ma devono avere anche un impatto di un certo tipo per la città o poi... Noi ci teniamo tantissimo, questa è proprio una caratteristica su cui noi ci battiamo molto perché ci piace fare bella figura, ci piace che sia il cantiere, che poi la realizzazione del ponteggio in sé sia tutto ordinato, tutto in linea, questo è un aspetto su cui noi puntiamo molto, sia a livello della realizzazione della facciata, che proprio devo dire a livello estetico per quanto riguarda i dipendenti, i mezzi, siamo molto... Io sono dell'idea che il ponteggio non c'è bisogno di andare a mettere, lo mettiamo il cartello per carità, non c'è bisogno di mettere il cartello, devono sapere chi è che lo monta. Ad esempio il ponteggio sono tutti bravi a montare, diciamo così, ok? Però l'estetica, l'occhio vuole la sua parte perché se durante l'arco della giornata passa un amministratore, passa un potenziale cliente, vede un ponteggio con le reti pulite perché è quello che poi si vede, non si vede l'interno, si vede l'esterno, l'organizzazione dello stoccaggio del materiale in cantiere, quello vuol dire molto, quello attira. Noi quando io passo in un cantiere e vedo una rete bucata o verniciata, ok? Io un po' me la prendo perché comunque cade l'occhio giustamente e io le reti vecchie le prendo, le butto e compro quelle nuove, non metto reti bucate o brutte, un esempio. Certo, ma i ponteggi, faccio l'esempio qui di Milano, i ponteggi vanno anche sul Duomo di Milano, quindi dove ci sono dei monumenti di una importanza fondamentale che devono avere un impatto. Ma certo, anche faccio un esempio, adesso ormai da un po' di anni giustamente che ci sono le pedane in ferro, ma i tavoloni, ovviamente noi ne abbiamo tanti, non si possono pretendere di prendere e eliminarli dall'oggi a domani, però noi anche quelle leggermente maccate o segnate, noi le buttiamo, le tagliamo, non le riportiamo in cantiere perché non vanno bene, per la sicurezza. Il suo modo di lavorare ci ha dato proprio anche l'opportunità di realizzare cantieri importanti, ultimamente, nell'ultimo anno abbiamo realizzato anche il cantiere proprio in Piazza Castello, Palazzo Madama. Partiamo del centro, del centro di Torino. Esatto, esatto. Palazzo Carichiano. Anche. Sì, sì, abbiamo. Lavoro? Sì. No, no, noi lavoriamo in tutta Italia. Tutta Italia, sì. Dove ci chiamano, andiamo, visioniamo, facciamo tutto noi, la progettazione, tutto. Vi rivolgete a… qual è la vostra clientela? Ma la nostra clientela come… dalla multinazionale, agli architetti, agli ingegneri, ai geometri, all'impresa, all'artigiano che ha bisogno di fare una ristrutturazione di una facciata, ci sono anche loro che fanno le ristrutturazioni. Per noi, dal più grande al più piccolo, se c'è la possibilità… Cerchiamo di servire tutti. Serviamo tutti. Non è che abbiamo scelto una… Una determinata classe. Esatto. Vedo scritto qui beni culturali. Sì, il lavoro che le stavo dicendo prima, Palazzo Madama, è stato commissionato appunto da una società che si occupa di restauro di questi beni culturali e quindi noi appunto abbiamo predisposto il ponteggio per far sì che loro eseguissero queste lavorazioni sia interne al palazzo che comunque esterne. Palazzo Carignano, anche a Torino, che è stato il primo Parlamento d'Italia, no? Certo. Come sembra? Sto dicendo una cavolata. Non lo so. Ma è così. È meglio che non ci allarghiamo. No, no, no. È il primo Parlamento d'Italia, sì. Palazzo Carignano. Allora, il futuro com'è? Ci sono margini per innovare, inventeranno qualcos'altro per quanto riguarda... Ma come innovazione nel nostro campo, più che questo multidirezionale, questo sistema di ponteggio che diciamo adesso è nella praticità e più... non penso che si possa fare di più. Noi cerchiamo nel futuro, ci auguriamo ovviamente di poter ampliare il nostro, diciamo, lavoro in più ambiti, come parlavamo prima di viadotti. Cercheremo comunque di allargarci il più possibile. Poi ci sono anche le raffinerie da montare, ma lì è un impegno proprio... è un impegno enorme, no? Delicato. Deve essere proprio... Sì, molto delicato. Molto delicato, sì. Deve avere veramente almeno 100 persone che lavorano in una raffineria, quindi... Ci auguriamo anche questo. Eh sì, sono grossi. Siete in tanti in azienda? Ma alla fine saremo una sessantina, tra dipendenti, artigiani, cominciando da... sono bellissime queste storie, cominciando proprio da cuttimista, no? Arrivare a... Da operaio. Da operaio, arrivare ad avere 60, è bellissimo. Io negli anni che furono, magari mi faccio dire, quelle volte quando si andava d'accordo con il papà, io andavo a fare l'operaio dall'altra parte. Poi tornavo sempre a casa. Anche Giada da un momento all'altro va a fare l'operaio dall'altra parte. Io no, ancora non mi sono... non ho intenzione di spostarmi. Sta bene, sta bene. Sono molto contenta. Allora, ragazza che si impegna... Comincio a chiederlo a Giada. Ci chiamiamo Top Secret perché l'ultima domanda della trasmissione è qual è il segreto del successo dell'azienda? Allora, il nostro segreto personalmente penso che al primo posto sia proprio la passione, con cui facciamo questo lavoro, veramente l'impegno che ci mettiamo e proprio il fatto di voler svolgere dall'inizio alla fine il nostro lavoro il meglio possibile, facendo attenzione a tanti piccoli dettagli che magari agli occhi di un esterno possono sembrare cose futili, però per noi sono veramente molto importanti. È contentare il cliente e soddisfare tutte le sue richieste. Antonio? Per me, come diceva mia figlia, gli aggiungo la passione che abbiamo, che in automatico ci dà la forza ogni mattina alle 6, alzarsi, che piove, che nevica, che ci sia il sole, che ci sia il vento, fino alle... almeno fino alle 7 e mezza, alle 8 di sera, quindi si parla di... dalle 13 alle 14 ore al giorno impegnate, sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. È la puntualità, organizzazione, poi c'è l'amore per il lavoro, quindi quando c'è l'amore del lavoro... Com'è che si dice, puoi lavorare quanto vuoi, ma se ami il tuo lavoro non sarai mai stanco o qualcosa del genere, no? Eh, se il lavoro coincide con la tua passione... Eh, sì. Comunque, bello, bellissimo, avervi avuti qui nella nostra trasmissione, è stata una bellissima ospitata. Grazie, grazie, vi auguro tutto il meglio. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, questa sera parliamo di montacarichi industriali, elevatori per merci, siamo con l'azienda Updynamic di Legnago, in provincia di Verona, e sono con noi Oscar Donà e Tommy Donà. Benvenuti a Top Secret, per un attimo ho pensato di vedereci doppio, e invece no, e invece no. Allora, cominciamo facendo la storia dell'azienda, chi me la fa la storia? Ma racconto io un po' da dove veniamo. L'azienda è nata nel 2006, un po' diciamo frutto dell'intraprendenza di nostro papà, che è, diciamo, da buon imprenditore veneto, ha deciso di investire in un nuovo progetto, coinvolgendoci fin da subito in questa nuova avventura. L'idea era quella di approcciare al mondo, appunto, degli elevatori industriali, elevatori, diciamo, anche per ambiti molto diversificati. In quel contesto, partendo da zero, siamo stati, diciamo, in primi anni impegnati nella... Ma venendo il papà da quel settore? Il papà già, con ottimi risultati, aveva gestito un'azienda, costruito un'azienda nel settore metalmeccanico, però aveva voglia di cimentarsi in qualcosa di nuovo, e noi l'abbiamo seguito in questo nuovo progetto. I primi anni, però, si partiva comunque da zero, e quindi abbiamo investito nella progettazione di questi nuovi macchinari, e anche sondando e cercando di trovare il nostro target, il nostro mercato di riferimento. E questo, diciamo, ci ha permesso di crescere e di capire il contesto in cui stavamo operando, fino ad arrivare a un punto che per noi è stato un crocevia, che ci ha permesso di dare, diciamo, un cambio di pelle, un cambio di passo all'azienda, nel momento in cui abbiamo, diciamo, deciso di investire tutte le nostre risorse dirette nell'ambito industriale. Questa è stata una scelta rischiosa, perché comunque avevamo investito anche in altre direzioni, ma che oggi ci permette di avere, come dire, un'identità vera e propria nell'ambito degli elevatori industriali. Quanti siete in azienda? Vi chiedo sempre. Siamo una ventina di persone, diciamo, omogeneamente distribuite tra uffici e produzione. Senza, e ora vai a capire chi è Tommy e chi è Oscar, comunque risponderete voi, come volete. I prodotti che offrite, cosa fate? Sì, per capire bene che prodotti AppDynamic offre ai propri clienti, è importante prima di tutto definire la destinazione d'uso del prodotto, perché a volte si può creare un po' di confusione. Prendiamo per semplicità l'ascensore come esempio. Si può considerare che i nostri impianti siano il suo corrispettivo nel settore industriale, quindi quando c'è l'esigenza di avere un prodotto robusto e affidabile e il cliente ha la necessità di spostare grandi quantità di merci, ecco che i nostri prodotti svolgono egregiamente quel servizio lì. Possiamo dire che con poche famiglie di prodotto riusciamo a soddisfare richieste da quelle più semplici, come potrebbe essere trasportare un piccolo bancale da 300 kg su un sopaico, fino a offrire impianti da 5.000 kg con piattaforme grandi 6 metri per 3 che si elevano in altezza fino a 16 metri. Quindi sono impianti che permettono anche l'accesso del carrello elevatore, quindi copriamo una richiesta molto molto ampia. Per i profani tipo me, dove si trovano questi enormi elevatori? Beh, diciamo che qua possiamo vedere i contesti applicativi, che un po' ci permette anche di capire qual è il nostro target di clientela. Ci innestiamo in quello che è un po' il settore dell'elevazione industriale, coprendo un range di contesti e di settori molto vasto. Diciamo che i principali sono l'ambito logistico, l'ambito della grande distribuzione, e in questo specifico contesto parliamo di catene di supermercato, per esempio, che utilizzano il nostro prodotto all'interno dei propri punti vendita, proprio per distribuire e portare la merce dal magazzino proprio al negozio, al punto vendita. Ma in realtà sono impianti che si prestano in tutto il settore manufatturiero, per esempio nelle aziende metalmeccaniche, chimiche o tessili, che hanno un fabbisogno di questo tipo. Non trascuriamo un altro ambito estremamente importante per noi, che è l'industria alimentare. In quel contesto riusciamo a dare delle soluzioni specifiche, quindi lavorando anche sul tipo di allestimento del prodotto, in modo da servire un range di applicazioni molto grande. Infatti stavo per chiedermi quali sono i servizi che offrite. Certo, perché affiancato al prodotto abbiamo anche dei servizi che completano un po' l'offerta ai clienti, che ritengo fondamentale l'analisi di fattibilità. Infatti internamente abbiamo un ufficio che si occupa di analizzare le richieste del cliente per poter proporre un progetto preliminare. Questo è un passaggio molto importante perché possiamo offrire al cliente tutta la nostra esperienza. Diciamo che in qualche modo indossiamo le vesti di un consulente e quindi questo è molto apprezzato dal cliente perché assieme a lui riusciamo a costruire l'impianto e la soluzione ideale per il suo contesto applicativo. Oltre a questo, anche l'installazione possiamo gestirla direttamente, quindi abbiamo squadre di installazione preparate, specializzate e qualificate che possono entrare in tutti i cantieri, anche i più complessi, dal settore navale a aziende chimiche molto grandi. Per ultimo ci tengo un servizio di post vendita che lo offriamo gratuitamente, quindi una volta installato l'impianto non ce lo dimentichiamo, quindi diamo un servizio continuo sia al cliente finale sia alle aziende che poi saranno incaricate dalla manutenzione dell'impianto. E non so, immagino che ci siano altre aziende che fanno questo tipo di prodotto, ma cos'è che vi differenzia dai competitors? Ritengo che ciò che veramente ci identifica è proprio l'identità che abbiamo acquisito. È un settore, questo, in cui operiamo che è ancora molto acerbo. Ci rendiamo spesso conto che il cliente che ha bisogno di un impianto dei nostri, di un impianto montacarichi, spesso non è neanche consapevole di avere questa necessità. Questo è indicatore di quanto il mercato sia ancora da costruire. E in un mercato da costruire vuol dire che anche i player non sono altrettanto pronti. E quello che abbiamo fatto è stato proprio l'anticipare i tempi e identificarci come riferimento in questo contesto, in questo settore. Chiaramente anticipando i tempi riusciamo ad avere già un gap rispetto a chi sta partecipando in questo ambiente, in questo contesto di applicazioni. Potrebbero essere anche i vostri punti di forza questi? Che sarebbe la prossima domanda. Ma diciamo che come punti di forza te ne posso dire tre, principalmente che potrebbero essere la qualità, l'innovazione e la sicurezza. Quando parliamo di qualità non intendiamo solo la qualità di materiali o di componenti che andiamo a utilizzare sull'impianto, ma una qualità di progettazione che permette all'impianto di essere installato facilmente, manutentato facilmente e perché no anche per l'utente che sia facile da utilizzare. Mentre per quanto riguarda l'innovazione, dobbiamo considerare che ha una vita lunghissima il nostro impianto, deve durare 20 anni se non di più, quindi deve essere già pronto alle esigenze del mercato futuro. Quindi investiamo costantemente al nostro interno per innovare il prodotto continuamente. La sicurezza la tengo per ultimo, ma in realtà è un elemento fondamentale, su questo non si può negoziare e discutere. Tutti i nostri impianti sono certificati, omologati e quindi controllati da un ente notificato. Oltre a questo ci appoggiamo esternamente a aziende di costruzione di dispositivi di sicurezza con le quali collaboriamo. Ecco che una collaborazione a tre teste riusciamo a raggiungere alti standard di sicurezza nel settore industriale. Dovendo condensare la filosofia aziendale, le ultime domande poi diventano più o meno la stessa cosa, perché filosofia, top secret, eccetera. Qual è la filosofia aziendale? Allora, diciamo che la filosofia aziendale si basa sui nostri valori. Ci piace pensare che quello che facciamo genera valore, ma genera valore in più direzioni, verso l'interno e verso l'esterno. Verso l'interno penso a quello che possiamo dare a tutti i nostri collaboratori all'interno della nostra organizzazione, quindi creare un ambiente armonico, stimolante e gratificante. Mentre verso l'esterno lo possiamo fare con i nostri prodotti, quindi riusciamo a creare ambienti di lavoro più sicuri, diminuire la fatica degli operatori e magari anche far sì che le aziende siano anche più efficienti. Diciamo che tutto questo può essere il riflesso materiale della nostra filosofia. Progetti futuri? Progetti futuri ne abbiamo forse fin troppi, nel senso che abbiamo tanta carne al fuoco in diversi fronti. Innanzitutto internamente stiamo sviluppando molto l'organizzazione, investendo nello sviluppo di nuovi processi, implementando sistemi IRP per la produzione, gestori documentali che aiutano la gestione dei flussi all'interno dell'azienda e delle procedure e questo ci aiuta a migliorare la qualità del nostro prodotto e dei nostri servizi. Ma in realtà il principale investimento su cui saremo diretti è lo sviluppo commerciale principalmente orientato all'estero. Attualmente lavoriamo un 35% dei nostri volumi all'estero, principalmente nel mercato europeo, ma l'intenzione è quella di implementarlo notevolmente e farlo diventare il mercato principale. Possiamo fortunatamente sfruttare l'appeal che ha il Made in Italy, soprattutto nel contesto metalmeccanico in cui è sinonimo di garanzia assoluta e in questa direzione abbiamo in mente progetti molto importanti. È già finito il tempo, ce la fate in pochi secondi, rientra già un po' nella filosofia aziendale. Qual è il segreto del successo della vostra azienda? Allora, io mi sento di dire questo, che al di là di tutto quello che abbiamo detto, al di là di bei progetti e di tutti i collaboratori che sono eccezionali con cui lavoriamo, in realtà dietro tutto questo l'importante è avere un obiettivo specifico, a mettersi in testa un target su cui puntare e crederci fermamente. Quando siamo sintonizzati su questo, ecco che anche i nostri progetti potranno funzionare. Non posso che confermarlo, anche perché se si lavora in squadra tutti quanti devono avere lo stesso obiettivo e sintonizzarsi sulla stessa frequenza. Perfetto. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie. Benvenuti a Top Secret. Parliamo, come sapete, dell'eccellenza dell'imprenditoria italiana. Oggi siamo con l'architetto Simone Gazzola, amministratore delegato della Punto 1 Arreda di Cantù, provincia di Como. Uno dice Cantù, prima cosa che viene... S. Mobili. Mobili, per forza. Abrianza, il regno proprio dei mobili. Senta, la Punto 1 Arreda nasce 50 anni fa. Vuole raccontarci un po' di storia dell'azienda? Sì, diciamo che l'azienda è nata dall'aperto mio padre 50 anni fa. Hanno iniziato in un posto molto piccolo e poi con gli anni si sono leggermente ampliate. Sì, poi nel 99 io e mio fratello siamo subentrati, diciamo. Anche lì abbiamo cominciato sempre in piccolo, eravamo in 3 o 4. E attualmente siamo in oltre 25 persone tra operai e collaboratori. Quindi siamo parecchie persone che ci dedichiamo anima e corpo al cliente. Certo. Senta, ma lei doveva fare questo per forza? No, io dovevo fare tutt'altro. Ecco, infatti, queste sono le mie curiosità. Io ho fatto architettura e dovevo fare appunto edilizia, dovevo fare altre cose. Poi questa cosa mi ha sempre appassionato e quindi alla fine sono finito anch'io nella azienda di famiglia, diciamo. Sì, sì, appunto, fino a oggi diciamo in laboratorio siamo io e mio padre, mio fratello. C'è ancora il papà? Sì, sì, sì. Apre sempre lui la ditta, quindi. Certo. È il primo a arrivare, è l'ultimo a andare via. Eh, lo so, tempre di un'altra volta, di altre epoche. Senta, quali sono i prodotti e i servizi che offrite? Diciamo che da noi vengono essenzialmente gli architetti che ci propongono una serie di progetti che possono essere progetti interni, progetti per negozi, eccetera. E vengono da noi soprattutto perché noi abbiamo un ufficio tecnico che sviluppa proprio il progetto dell'architetto, quindi sviluppiamo il dettaglio costruttivo, quindi proprio scala 1-1, che diciamo è la nostra particolarità. e da qui poi partiamo con la produzione, quindi con la realizzazione del mobile e poi viene lucidato, eccetera, poi viene consegnato direttamente da noi. Quindi diciamo controlliamo tutto il processo dall'inizio alla fine. Tutto su misura? Tutto su misura. Cioè, qualsiasi richiesta venga fatta, più o meno, cerchiamo di soddisfarla. Perché vi hanno fatto anche richieste strane nel corso della... Mi capitano troppe forse. Eh sì, eh. Eh beh, cerchiamo di soddisfare anche quelle. Certo, questo è il lavoro su... il lavoro sartoriale, diciamo, su misura. Quali sono, secondo lei, i punti di forza dell'azienda, della sua azienda? Perché immagino che ce ne siano altre aziende che fanno mobili, soprattutto in quella zona. Adesso è un po' meno rispetto a prima. Purtroppo si sta... ci sono meno scuole che insegnano ai ragazzi questo mestiere e stanno chiudendo diverse ditte perché c'è mancanza di mano d'opera, purtroppo. E questa è una cosa molto triste. Noi fortunatamente abbiamo ragazzi giovani che stiamo cercando di far crescere insieme a noi. Quindi questo è il nostro punto di forza anche. Beh sì, il punto di forza è della tradizione, perché quella conta. Sì, appunto che Cantù è una forte tradizione, è un peccato se questa cosa va a sparire, va a scomparire. Quindi stiamo cercando di, anche noi nel nostro picco, di preservare questa cosa. Ma voi fate anche formazione? Sì, perché abbiamo lì tre o quattro ragazzini all'anno che ci mandano alle scuole per formarli, per contribuire a formarli. Poi magari qualche ragazzo può rimanere. Ci sono ancora le scuole comunque? Ci sono, non tante come prima e non come prima, purtroppo. Però questa è una cosa molto triste. Anche perché poi ci lamentiamo che manca il lavoro, manca il lavoro, però insomma... No, noi ce ne sarebbe tantissimo. Ce ne sarebbe tantissimo. Basta trovare le persone volenterose per poterlo fare. Ecco, solito problema. Senta, quali sono i mercati di riferimento vostri? Noi abbiamo iniziato col mercato italiano inizialmente. Attualmente però andiamo un po' dappertutto, dove ci capita. Abbiamo fatto delle cose molto importanti a New York, sia a livello di appartamenti privati, sia di spazi più pubblici. Poi andiamo in Francia, andiamo in Spagna, andiamo in Germania, andiamo, siamo a Malaga. Lavoriamo per persone più o meno importanti, nel senso, facciamo un po' di tutto, insomma. Bene, benissimo. Senta, e la clientela di riferimento qual è? Privati, architetti? Noi appunto la maggior parte sono architetti che vengono, ci presentano il progetto, che può essere di un privato, e quindi poi noi facciamo il lavoro. Un po' meno, ci sono anche singoli privati che vengono da noi a chiederci singolo mobile, singolo ambiente, però un po' meno, diciamo. Quindi gli architetti hanno il progetto e poi chiaramente vengono da noi. Viene da noi per farci poi sviluppare il progetto, per realizzarlo, eccetera. Senta, l'azienda ha 50 anni, ma voi avete già pensato a qualche progetto futuro? Diciamo che per noi è molto importante il rinnovamento dei macchinari. Quindi cercare di stare a passo con i tempi, di stare a passo con le nuove tecnologie, perché sono quelle che poi danno la qualità del prodotto. Certo. E quindi stiamo cercando di investire, stiamo investendo molto. Abbiamo già investito e contiamo ancora di farlo nel futuro. Benissimo. Senta, noi ci chiamiamo Top Secret, perché a un certo punto facciamo… Lei un po' me l'ha già accennato, però qual è innanzitutto la cosa che secondo lei, se c'è, che vi contraddistingue rispetto ai competitors, che soprattutto nella sua zona sono tantissimi? Mamma mia. Diciamo che è la conduzione familiare e la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Certo. E qual è il segreto, secondo lei? Me l'ha già accennato. Secondo me è proprio questa, la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Questo è proprio il segreto che è nella nostra ditta. Senta, io la ringrazio davvero, è stato bello. È un po' triste questa cosa che stanno chiudendo tante attività e che c'è difficoltà a trovare il personale. Questa è una cosa effettivamente molto grave. È una cosa che penso riguarda non soltanto Cantume, ma riguarda un po' tutta l'Italia. C'è questa difficoltà di trovare persone, anche perché sono lavori che danno molta soddisfazione. Certo. Quindi è un peccato. Il lavoro c'è, non guardo la telecamera, il lavoro c'è e bisogna averne voglia. Certo. Quindi insomma non lasciamo morire queste grandissime tradizioni. Grazie per essere stato con me. Grazie a voi per l'invito. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret. Questa sera ospitiamo la PMI Stampi e Stampaggio di Mottalciata, in provincia di Biella, e sono con l'amministratore delegato Alessandro Ciccioni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Benvenuto a Top Secret. Noi normalmente cominciamo le nostre trasmissioni chiedendo per sapere con chi parliamo, sapere la storia dell'azienda. Sì, la PMI Stampi e Stampaggio nasce a Mottalciata nel 2006, ma in realtà ha ancora le sue radici nel 1973 con la costituzione della prima PMI Stampi e Stampaggio da parte del mio papà Fabio, che a Bareggio, in provincia di Milano, costituì il primo stabilimento, che tra l'altro è ancora attivo. Attualmente ci sono tre stabilimenti, quello di Mottalciata è il più grande, ma appunto sono affiancati altri due stabilimenti, quello di Bareggio, in provincia di Milano, e quello di Romentino, in provincia di Novara. Quello che io chiedo sempre quando sento parlare di aziende familiari, ma lei è stato, era obbligato a fare questo mestiere o magari perché spesso avevano tutt'altre idee? Così è stato anche per me. Vedi? Io ho studiato enologia. Enologia? Sì. Che meraviglia. Il destino poi mi ha portato a poter seguire sia l'attività costituita da papà e anche a costituire un'azienda vitivinicola, proprio nel biellese. Ah, bene. Così quando brindate magari ai bilanci positivi, lei è già l'esperto per queste cose. Senta, veniamo al core business. Cosa fate? L'azienda si chiama PMI perché nacque nel 73 per la produzione di componenti in plastica per fare i modelli degli impianti di raffinazione del petrolio. Mio papà ebbe quest'idea geniale che lo portò a essere l'unico produttore al mondo di questi componenti e acquisì quindi la tecnologia per produrre componenti e articoli in plastica per fare questi modelli. Questo settore scomparve poi negli anni 80 quando la programmazione a computer su 3D prevalse sulla costruzione di questi plastici immensi che venivano fatti per gli impianti. Ma mio papà aveva già tutta la struttura e la competenza per stampare articoli in plastica anche per tutta una serie di altri settori perché proprio in quegli anni ci fu un boom appunto della trasformazione delle plastiche che adesso pervade il mondo sostanzialmente in tutti i settori. Certo. Ma a cosa servono i modelli di raffineria? Il modello della raffineria serviva per essere sicuri degli ingombri delle tubazioni e poi questi modelli che erano immensi in scala 1 a 25, 1 a 50, 1 a 30, 1 a 33, venivano portati fisicamente sul cantiere quindi in Arabia piuttosto che in altri posti in modo che qualunque costruttore, qualunque carpentiere capiva dove doveva andare il tubo di riferimento. Incredibile. Quindi venivano riprodotti perfettamente. Perfettamente, con tanto di figurine di persone, scale, scalette, passi uomo, ringhiere e tutto quanto. Componenti erano tantissimi, ogni colore di tubazione aveva il suo riferimento del liquido che ci passava dentro ed erano molto funzionali. Essendo l'unico al mondo a produrre questi, lui, il papà, ebbe modo di far abbattere drasticamente i tempi di realizzazione di questi modelli che fino ad allora venivano prodotti con la balsa e venivano verniciati poi successivamente. Geniale, veramente geniale. Senta, a chi vi rivolgete? Il mercato è molto variegato nel nostro settore. Lo stampaggio delle materie plastiche, come ho detto, è in ogni prodotto, in ogni oggetto che noi maneggiamo quotidianamente. La nostra storia ci ha portato a servire proprio svariati settori. Dai componenti per macchine per il caffè, dai componenti per lavatrici, componenti per arredo, componenti per automotive e anche una parte nella cosmetica. La nostra diversificazione arriva dal fatto che negli ultimi dieci anni abbiamo fatto alcune acquisizioni di aziende più piccole di noi e ci siamo portati quindi in casa nuovi settori e soprattutto anche nuove competenze. Quindi oggi noi siamo in grado di lavorare qualsiasi tipo di materia plastica, di conoscere le applicazioni, consigliare i clienti sulla corretta plastica da utilizzare in base all'applicazione finale del prodotto. Lei mi ha parlato di tre stabilimenti, quindi per capire un po' anche le dimensioni dell'azienda, quanti siete in azienda? Gli stabilimenti sono tre e sono piccoli. Noi siamo in tutto 40, quindi la sede principale ne ha 20, a Romentino e a Bareggio ci sono 10 persone per stabilimento. Perché questo? Qualsiasi analista economico direbbe che un'azienda del genere andrebbe accorpata. Ma siccome arriviamo da una storia articolata, per noi è sempre stato importantissimo quello di mantenere le maestranze nel territorio di riferimento e dall'altro lato anche commerciale avere una prossimità anche con la nostra clientela di riferimento. Noi siamo ubicati lungo l'asse Milano-Torino con i tre stabilimenti e questo ci dà anche una capacità di essere rapidi nelle consegne, agevoli. Il cliente ha un'affezione anche a noi proprio perché siamo in prossimità sua. Scusi, io faccio domande che non c'entrano niente perché così imparo. Ma voi siete in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti? Cioè avete macchine che producono prodotti di varie grandezze? Sì, sì, esatto. I tre stabilimenti sono anche differenziati per questo. Noi possiamo stampare prodotti da 0,1 grammo fino a 3 chili di peso. Accidenti. Senta, se dovesse raccontarmi quali sono i punti di forza dell'azienda? Il nostro maggior punto di forza è la competenza trasversale. Il nostro settore che è molto articolato, ci sono tantissimi stampatori di materie plastiche, soprattutto in Lombardia e anche in Piemonte, è fatto di aziende che si specializzano fortemente su una specifica applicazione. Noi, grazie appunto alle acquisizioni che abbiamo fatto, abbiamo assorbito know-how e quindi siamo in grado di essere trasversali. E un altro punto di forza è che non ci spaventano le piccole serie. Lo stampaggio industriale è per definizione lo stampaggio per prodotti in grossi numeri, ma noi siamo anche capaci di fornire piccole serie, che vuol dire i mille pezzi, i 500 pezzi, e così supportare anche quella piccola produzione, che in Italia è comunque molto importante, fatta di articoli di nicchia o di prodotti molto specialistici. Il vostro mercato è nazionale, è estero? Sì, abbiamo un progetto di internazionalizzazione che stiamo portando avanti da cinque anni e con ottimi risultati. Attualmente sì, stiamo servendo altri mercati, soprattutto europei, e poi abbiamo anche un settore tutto nostro, con un prodotto nostro che è quello dei rocchetti per avvolgere nastri tessili, che invece ci fa esportare anche fuori dall'Europa. Senta, immagino che sia un campo dove l'innovazione è piuttosto presente. Voi avete apportato qualche innovazione? Sì, l'innovazione è obbligatoria perché è un settore molto competitivo. L'innovazione che abbiamo portato è recente, nonostante non ci siamo mai fermati, in questo senso, in tutti questi anni di attività, è soprattutto orientata al fatto del controllo della produzione attraverso le tecnologie 4.0. E' un processo lungo, è ancora in corso, vuol dire sostituire molti macchinari, vuol dire avere una visione di lungo periodo, ma questo non ci manca. Progetti futuri? Sempre bene parlare di futuro, di progetti. Ci sono nel cassetto dei nostri sogni quello di legarci ancora di più ai nostri territori di riferimento, espandendo le rispettive sedi e sviluppando una serie di competenze specifiche per far fronte a mercati molto particolari. Vi faccio un esempio, siamo autorizzati dal Ministero per la produzione di materiali plastici arricchiti di feromoni in modo che si possano produrre articoli che hanno dei fitofarmaci all'interno per la lotta integrata in agricoltura. Queste sono specialità che non sono molto presenti e questo ci dà alcune peculiarità rispetto agli altri produttori di materie plastiche. Ci piacerebbe sicuramente ampliare il nostro stabilimento di Montalciata in modo da poter efficientare completamente questo stabilimento su cui stiamo investendo molto. Ma per l'esperienza che sto maturando io facendo questa trasmissione, spesso mi dicono che il fatto di avere delle aziende non troppo grosse dà dei vantaggi per quello che riguarda per esempio la rapidità nel soddisfare le richieste. Sì, è così. Noi abbiamo tantissimi clienti che hanno fatturati in singoli molto bassi, ma per noi ogni cliente è prioritario. Ed è importante che ogni cliente si senta al primo posto della lista. Questo si ottiene proprio con queste micro realtà che hanno una conduzione sostanzialmente diretta e snella e ognuno si sente a proprio agio sul posto di lavoro. Top secret ci chiamiamo perché l'ultima domanda è sempre quella. Qual è il segreto del successo dell'azienda? Il segreto del successo di questa azienda è la tenacia, la capacità di visione e l'instancabile voglia di conoscere le materie plastiche, di essere aggiornati sulle materie plastiche in modo da poter dare sempre il miglior servizio alla nostra clientela. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie. Grazie, grazie. Grazie.